Termo valorizzatori o rifiuti nella città di Andria tiene banco il dibattito sull'emergenza rifiuti e sugli annesse modalità di smaltimento, tematica annosa e che attanaglia come ben sappiamo la regione Campania. Da una parte c'è chi combatte la discarica, dall'altra c'è chi invece combatte i termovalorizzatori. Su tutti il consigliere comunale di Andria Vincenzo Antolini e di Grillini Andriesi, questi ultimi già protagonisti di uno dei servizi giornalistici che la nostra emittente ha dedicato alla vicenda rifiuti. Il punto nelle parole di Benedetto Miscioscia, consigliere comunale di Forza Italia della città di Andria. È inutile continuare a criminalizzare i termovalorizzatori quando in realtà ci sono altri stati, ci sono altri paesi, altre regioni, altri comuni, altre città che già possiedono e funzionano anche bene questi termovalorizzatori. E guardate, io pongo sempre un problema come riflessione. Il primo termovalorizzatore di cui si accenno fu realizzato ad Hamburgo nel 1895. Beh, signori, nel giro di un secolo sono cambiate tante cose, la tecnologia è migliorata, è possibile che ambiente, tecnologia, innovazione possono andare di pari passo? Io credo di sì. Se è vero che oggi l'abbattimento delle polveri sottili, i cosiddetti PM10, senza parlare delle nanopolveri, perché quello è un problema secondo me che si potrà affrontare successivamente, ma se andiamo di questo passo probabilmente scopriremo anche tante altre cose. Però oggi, se parliamo di polveri sottili, possiamo benissimo dire che c'è un abbattimento anche del 99% di emissioni. Se questo non è un dato, su questo credo che tutti quanti dovrebbero riflettere, trarne delle conclusioni rispetto al fatto che oggi una discarica inquina molto di più di quando non potesse fare o non possa fare un termovalorizzatore. Inoltre, nell'immediato futuro, bisognerebbe sensibilizzare maggiormente la gente alla raccolta differenziata. Nella nostra città, dopo 4 anni, quasi 5 anni di attività svolta dalla Manutencop, ci siamo ritrovati, ci ritroviamo ancora con appena un 10-11% di differenziata, rispetto al 45% prospettato nel piano operativo della stessa società, che diceva appunto che entro il periodo di affidamento del servizio avrebbe portato questa città a raggiungere questo obiettivo, obiettivo che purtroppo è miseramente fallito. Grazie a tutti.